Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica Reaction i Reels numero 6! Come al solito oggi andiamo a fare la reaction ad alcuni miei reels di Instagram. Iniziamo subito! Questo è il mio profilo Instagram con 25.300 follower. Siamo cresciuti tantissimo, come al solito vi ringrazio tutti quanti. Uno a uno 25.300! Andiamo ai reel, eccoli qui. E che sfiora il cielo dall'ultimo piano, e non mi sembra più lo stesso. E adesso non so più che fai, ma sento ancora la vertigine. Quando dici che era inutile, piave su di me, sembra una città, quella che non ho. Quella con i grattacieli più alti, ora non so che fai, ma sento ancora la vertigine. Sento ancora la vertigine. Senza ancora la vertigine. Senza ancora la vertigine. Senza ancora la vertigine. Questa qui era la cover di Vertigine di Allodì. Bravissima, complimenti, sei fantastica. Bravissima, che carina, grazie mille. Andiamo subito avanti. Uno starti dietro è uno spreco di energie. Due perché hai confuso le sue scarpe con le mie. Tu mi fai odiare le cose che amavo di te. Litighiamo notte e giorno fino a che non mi brucia la gola. Fa male anche se non serve a niente. Dimmi come, come, come faccio a non pensare a te per ore e ore. Non sei qui, mi fai impazzire. Piango come, come, quando piove. Io ti letto tutto il cuore. Ma tu ne hai lasciato altrove. Tra l'altro in questo video sono vestita con la stessa maglione che è adesso. Che carina. Comunque questa qui era Come Come di Sissi, che è la mia canzone preferita in assoluto. Infatti mi scattano ogni volta che la sento. Asia, che è la mia migliore amica. Bellissima canzone, bravissima. Bravissima, complimenti, sei troppo bravo. Grazie mille a tutti. Avanti. Ti mi accorgi che sono due giorni che non siamo a casa. Anche questa volta abbiamo fatto come vuoi. E le mani sugli occhi e gli errori facciamogli ancora. Quindi che fai tutto il giorno? Non dirmi che sono. Si due stupidi lovers. Per altre 24 ore. Si due stupidi lovers. Per altre 24 ore. Questa qui è la mia seconda preferita di canzone. È Stupidi Lovers di Sissi. Si vede che mi piace Sissi. Bravissima Sofia. Bravissima Sofia. Buon anno. Sei fantastica. Bravissima. Grazie mille. Andiamo avanti. Guardami dentro il tuo mondo e poi, fammi volare sopra i passi che fai. Cantami le tue emozioni di Natale. Insieme ci scupiremo. Questo che ci porterà. Buon Natale e serenità. Tutti possono tornare. Qui stavamo cantando in Piazza del Popolo a Pesaro. Precisamente il 23 dicembre. Per Natale. È stato molto bello. Molto bella Daniele Trucco. Che lui scrive canzoni. Infatti a volte ci aiuta per i testi. Fantastiche. Buona vigilia. Oggi è anche il mio compleanno. E vabbè, non è oggi. Però auguri il ritardo. Bravissimi. Buon Natale. Tutti buona vigilia di Natale. Però per ogni luna che ci guarda sopra è tutta la sfortuna che ci seguo ancora ne come James Dean. Puoi avere 200 all'ora ogni volta. Come quei sogni violenti che abbiamo sbattuto al muro, 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 muro. Eh, eh, eh. Come io e te appena svegli che balliamo con il fumo, 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 fumo. Eh, eh, eh. Questa qui era la canzone di Luigi Muro di Amici. Stupenda, principessa, bravissima, bravissima, fantastica Sofie, brava. Grazie mille. Buon Natale. Questa qui era la cover dei Nuvole di Zanzare di Gaia che mi piace tantissimo anche questa. Sei fantastica, brava. Bravissima, amo questa canzone, anche io. Principessa, bellissimo. Grazie mille. Un abbraccione a tutti quanti, tutti. I, abbraccione. Ecco. Ciao a tutti. Guardate che bella la mia felpa bianca. Spero che tu stia scherzando. Quella non potrà mai competere con la mia nera. Ma cosa dici? Guarda come è morbida, irresistibile e sofficiosa. Bah, io non ne andrei così fiera. Guarda la mia. Nero e viola l'abbivamento perfetto. Imbattibile. È meglio la mia. No, la mia. La mia è super. La mia è strepitosa. La mia è... Vabbè ragazzi, decidete voi. Questa qui era il video dove le mie due me decidevano quale fosse la più bella tra le mie nuove felpe con la nuova grafica bianca o nera. A me piacciono tutte e due, non so scegliere. Per questo ho fatto scegliere a voi. Vediamo cosa dite. Ma sono tutte e due bellissime e per Natale ho già chiesto quella bianca. Sono belle entrambe, però quella nera è top. Allora, vediamo. Un voto per bianco, un voto per nero. Poi la felpa nera, due voti per nero. La nera. Tre voti per nero. Sono entrambe bellissime, quindi tutte e due. Bianca. Vabbè dai, lasciamo perdere. Adesso siamo... Tre a due. Sta vincendo la nera. Wow. Mordila la tua fantasia Non dormire aspettando che sia domani Vola con quanto fiato in gola Il buio ti innamora Qualcuno ti consola La notte vola All'ombra di un respiro Io ti starò vicino Ti prego, resta ancora Bambino Vola con quanto fiato in gola Il buio ti innamora Qualcuno ti consola La notte vola Questa qui era La notte vola Di Lorela Cuccarini Col balletto anche Bravissima Sei stupenda Sei una grande Sei bravissima Vorrei tanto incontrarti E diventare super amica E fare ovviamente i video insieme Che dici ti voglio un bene dell'animo Grazie mille Speriamo di vederci Bravissima Secondo me sei già pronta Per andare a Sanremo E ancora Mare Fammi ci stare bene Dentro c'è tutte cose Stiamo ce n'è io e te Che stare male non vale Se non lo puoi gridare Portati via ste cose Portale via con te Questa qui era Tutte cose di Gazelle e Marasatei Fantastica Bravissima Ciao Sofia Ciao anche a te Bravissima Grazie Avanti Grazie mille Grazie a tutti Allora, questo qui è un collage delle mie vecchie foto e stavo ancora facendo pratica con i filtri di Instagram, infatti sono tutte carine queste foto, ce n'è anche una con l'appo. La terza è stupenda. Non sono brutte, sono spontanee e adesso ci sto prendendo la mano. Ma sei bellissima? Bellissima? No, dai, non sono poi così brutte. Vabbè, se lo vedete voi, io ragazzi mi fido. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste di blanco. Da grande andrai ad amici, ti prego, magari ci proverò. Azzurro ricoverò il pianoforte. Stupenda, mamma mia. Grazie mille! Ragazzi, questo qui era l'ultimo reel di oggi. Se volete altre reaction ai reels, scrivetemelo assolutamente qui sotto nei commenti. A me piace un sacco registrare questo tipo di video. Quindi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!